Salve a tutti voi compilabilders da Dead Orange a quest'oggi con giunto a fare l'unboxing del bellissimo e fantastico kit del Reversible Gundam! Prima di cominciare ad analizzarlo dall'articolo, vi voglio dire una cosa ragazzi, è una piccola cosa mia, per esempio mi vuole di evitarlo, ma prima di cominciare a guardare quanto è figo veramente il Reversible Gundam, fantastico a me, di design, estetico, è una bomba davvero, e vi voglio dire una cosa stai in più direttamente, io quando ho visto la primissima serie della mini serie Gundam Build Fighters Batlog, a me non era affatto per nulla, era direttamente impazzito all'inizio, ma proprio perché diciamo l'ho avuto a quel tempo di guardazione, mi sono convinto solamente dopo, quando ho preso proprio il kit e l'ho visto un po' meglio, chiaramente una bomba, non so perché mai inizio mi è stato veramente un po' malaccio, voglio dire, perché il kit anche di base mi piace veramente un casino, voglio dire, e ovviamente così ha una risa veramente unica, veramente, è veramente fantastico, quindi che ricorda anche il primissimo buon Gundam direttamente, quello del com'è fatto, e che ne ricorda anche un casino, voglio dire, so che ho preso più dalla serie di Gundam double server direttamente le parti basiche, però c'è un po' un mix anche del primo Gundam, sinceramente io sono un grandissimo fanatico, ma vabbè ragazzi, scusatemi di doverlo a questo punto, quindi ovviamente io lo trovo veramente di brutto, è veramente bellissimo proprio in tutto come è fatto proprio, e a me piace veramente moltissimo, sì, è non troppo perfetto, però lo ritengo veramente uno dei più belli in assoluto mai visti, diciamo, nella serie di Gundam build fighter stietamente in tutto qui, bene, ma adesso cominciamo subito a analizzarlo, partendo dalle articolazioni, la prima articolazione è quella della testa, come ho trattato praticamente qui su F.A. è sempre testamente fichissimente il B-Fin, praticamente è un casino di dettagli in verde, vabbè scusatemi, per l'autoporto proprio nel mio parere personale, comunque si muove leggermente così in alto, come potete vedere, ben così in basso, accendi guardare benissimo, lateralmente così e vuota a 360 gradi. Per l'articolazione del braccio è montata da alcuni speciali giunti a sfera con i polkest, è un pezzo qui rinforzato direttamente e fa buoni movimenti, allora per cominciare si piega leggermente così in alto, è abbastanza bene così in basso, la spalla è anche ben orientabile, e leggermente c'è una buona estrazione direttamente, ma poi la parte qui del braccio, come potete notare, ruota così in questo metodo, poi si piega fino a un movimento singolo e poi diciamo che c'è questa parte qui, almeno è quasi il piegamento totale, va un po' strano vederlo, ma ok, che è una cosa che ci può stare per trasformazione, mentre invece qua poi per la parte qui, direttamente che c'è l'arma principale, ci sono vari tipi di movimenti, allora questa parte qui, che in pratica c'è un sistema tipo di destrazione, vedete, tramite questo gancetto che si lo fa muovere così e così, scusatemi se non riesco a farlo vedere per bene, poi ci sono alcuni movimenti, alcuni di questo qui per la pistola e questi qui per l'arma, poi vediamo, e anche qua questo braccio qui, c'è un buonissimo sistema di movimenti proprio, niente male, poi passando qui dietro al backpack, anche qui c'è un po' di parte, qui semplicemente si allarga così praticamente in questo metodo, si allarga e si chiude, vedete, sale leggermente così in alto e un pochettino così in basso, ma ci sarà molto più tanta trasformazione, e poi c'è queste parti qui che in pratica si possono andare a tirare fino a fuori così, e anche la priorità, direi anche proprio diciamo a destrarle, vedete, e basta praticamente, poi c'è queste parti qui di green saber che hanno un leggero alzamento e abbassamento, ci può stare proprio per bene, a quanto riguarda il busto, assolutamente un leggerissimo piegamento, così in questo metodo qui, e leggermente così in basso in alto, ma non mi sembra tanto che una cosa possa fare il crito, magari sbaglio, io devo controllare proprio per bene, poi comunque qui abbiamo queste parti qui delle gonne in pratica, che allora possono essere spostate così, in pratica così, c'è anche una estrazione qua per la trasformazione, direttamente, che va bene, ne ha tantissime trasformazioni in questo modello, poi c'è in pratica questa parte qui che si può attirare fino a con questo metodo, le gambe c'hanno praticamente, allora mi sembra anche così, della detti all'alzato, vedete, c'hanno una leggerissima spaccata fino in questo metodo, e al centro, c'è, mi alluso maissimo che io credo fosse stato rotale, ma ok, ok, poi c'è il sistema di calcione in avanti, che ha fine in questo metodo, ed è veramente eccellente, proprio su come è stato proposto, wow, mi stupisce veramente un casino, poi come ho detto prima, la parte indietro va così bene, ci sta, e poi il calcio si fa il piegamento totale, buonissimo, e poi c'è anche questa parte qui che scorre, vedete, questa parte qua, direttamente, in questo strano colore qui, che non so bene se lo dia, che è un grigio, vedete, si va anche un po', diciamo, a destare, quindi fa un ottimissimo lavoro in più questo kit qui, e poi in fine c'è la parte del piede che ha vari tipi movimenti, allora come potete vedere qui si allarga in questo metodo qui, e la nazionale voleva farlo vedere subitissimo, però si piega così in questo metodo, lateralmente, ed in su ed in giù, così in questo metodo, niente male per le articolazioni per questo modello, passiamo adesso alle varie armi ed accessori che è questo modello, che veramente questo kit viene il funerio di un casino di armamenti, perché mi spiegherà direttamente, beh, per bene, perché, beh, io non ho parlato della mia storia, perché anche se potevo parlare qui, ho dicevo un preferito vitale, perché è un po' inutile direttamente, comunque sia questo kit che è stato costruito da Alan direttamente, te è un aiutante, praticamente per conoscere il Gundam Build Fighters, che questo dice in pratica che dalla mano costa il Gundam, diciamo, della mano coordinare, questo è un kit costruito semplicemente da lui, e non è stato costruito solamente per caso direttamente, solo per fare un kit, ma proprio per essere un Gundam equipaggiato con direttamente ogni tipo di armamentaio, io proprio per tutte le varie occasioni, in modo da arrivarsi più utile, a seconda proprio delle necessità di combattimento, allora, vediamo direttamente, allora, per cominciare a farci vedere una cosetta, che anche il customizzato, beh, l'anticipo già, perché questa è una modifica custom, in pratica c'è questo cannone qui che vi ho trovato, ma che in pratica non serve per nulla, e come potete vedere da qui venire certo di nero, perché non mi ricordo se bene c'è un prezzo di sforzo, o qualcosa del genere, ma comunque sia ok, era carino così, e quindi ho pensato, beh, anche se purtroppo no, vado a non andare a Twitter per questo modello, però ci stava un pochettino, magari potrei mettere qualche modello, magari un pochettino, se non mi riterebbe, diciamo che non trovo abbastanza bene e nulla di particolare, proprio, ok, che può anche essere alloggiato, ma sinceramente non vedo l'utilità, quindi non vedo proprio dove può essere alloggiato, quindi ho perfetto solo saltare, comunque sia poi le prossime armiche a sono praticamente, allora, per cominciare, qui al braccio c'è questo punto qui speciale, che vi ho notato prima, potete notare prima, c'è in pratica questo braccio qua, allora, come potete notare qui, questo coso qui, che sembra anche un po' una specie di dragone, da nazione, mi dispiace un po', che cacchi mi sta cadendo il modello, comunque se vedete, funziona così in questo modo, serve sia per la trasformazione, ma anche in pratica per stare via le armi, diciamo, sui avversari, tipo se mettersi dei vari zaku in battaglia, potrebbe toglier via facilmente i loro fucili, direttamente, quindi è un'arma che serve l'assi veramente molto utile, e sempre proprio per bloccare le armi dei rivali, in pratica c'è questa parte, questa specie di pinzetta, ok, che ci sta anche qui molto bene, e poi c'è queste pistole, le che pratica, come potete notare qui, allora, sembra che semplicemente si mettono così, ma in realtà c'è un po' di più, perché per andarle a mettere, è un po' complicato, quindi scusatemi, ecco, si va a stare questo puntino qui, e in pratica si devono andare ad estrarre e mettere così in questo metodo, per favore mettiti, vedete, ecco così, ci sono riuscito bene a prima occasione, si vanno a mettere così in questo metodo, si so che adesso l'ho messo un po' da cani proprio, scusatemi, però, credetemi, non è facile per nulla far vedere tutte e due le cose proprio per questo modello, eccolo, così vedete, qui potete notare, sì, la posa, so che non c'ho frecca, voglio dire, però ci sta molto bene, proprio queste mini pistole qui, una cosa interessante, queste pistole qui, è che sono pistole che in pratica sono a corto raggio, purtroppo, sì, non so, non mi ricordo tutti i nomi, ma non è facilissimo per me ne da ricordare tutto quanto, perché c'è già tantissimo, diciamo che sono buone per il corto raggio e vabbè, ci stanno molto bene, l'armi migliore, poi ci sono buone nel kit, perché adesso vediamo, allora prima, però, vorrei farvi vedere un'altra cosa, un po' delle braccia, che in pratica hanno un sistema specialissimo, in pratica, perché quando si va a trasformare, in pratica possiamo dire così, se giriamo questa parte qui, in questo metodo qui, mi sembra, e pigliamo un altro di questi, di pezzi, diciamo, che sono questi qui, in pratica, sono due, in questo kit qui, vedete, questi qui servono in pratica per un altro tipo di trasformazione, di trasformazione, vedete, non mi ricordo bene, proprio in generale modo, come funzionava, però mi serviva, bravo che potevano a stare delle cose, poi avevano degli agi laser, mi sembrava direttamente, ok, ok, scusatemi ancora per i nomi, ma ve l'ho già detto, non sono molto bravo in queste cose, se quindi, anche ho certe imitazioni, eh, 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 sì, scusatemi di brutto, ma, è un po' un casino, come ve lo faccio a vedere, proprio, in generale, equip per questo kit, il River Sable Gundam, ma anche delle armi qua dietro, che vi faccio già vedere, in pratica, sono queste parti qui, allora, queste qui servono in pratica di cannoni speciali qua dietro, che sono, che sia, no, auto orientabile, non mi ricordo, ma se questa parte qui era già orientabile, forse, no, no, mi sembra proprio di no, ho esagerato un po' io, ok, scusatemi, vi ho già detto prima, non è per nulla facile, voglio dire, farvi vedere un po', spieghervi un po', tutto quanto, proprio, perché poi ci sono anche poi le parti che si muovono, però, il kit non dà nessun problema, ecco, vedete, in pratica, c'hanno questi punti, che servono i cannoni, che fanno, che funzionano più che altro per trasformazione, e poi c'hanno queste parti qui, che servono, in pratica, dei funnels, in pratica, i funnels, che cosa sono, perché per i novellini servono delle mini armi controllate, dalla testa della persona, in pratica, su cui possono eseguire vari tipi di ordini, come attaccare, o defend, cose semplici, purtroppo, non fare molte cose complicate, però sono molto utili in battaglia per i Gundam, e quindi questo è un punto a favore, che mi piace veramente un casino, perché poi, sempre nella serie di Gundam, sono Build Fighters, i funnels, come chiamano, o che devono chiamarli, alcuni fanatici simpaticoni italiani, gli imbuti, in pratica, sì, devo dire niente male, e poi, infine, l'ultima cosa, che è molto importante, in pratica, le armi, che ha questo kit qui, allora, c'ha in pratica due beam saber, come ricorda un po' il primo Gundam, ecco, le qui sopra, in pratica, si possono andare a tirare fuori da qui, o quella, la prima punta della beam saber, e possiamo andare a rinunciare la lama, che in pratica, quella più base, che ho trovato il kit, è questa qui, bianca, è trasparente, ma se ricorda un boxing, a me, mi ha fatto un po' schifo, direttamente, quella, quella cosa lì bianca, non mi piace per nulla, perché dovrebbe essere arancione, come si dice, poi viola, però, in generale, in modo così, non mi piace, io, sinceramente, preferisco più questa qui, che quella viola, che poi, sempre, poi, nello sconto, poi, la utilizza, in pratica, quando cambio di pilota, direttamente, quindi, ci sta, secondo me, molto meglio, proprio, guardate qui, quanto è figo, veramente, così, voglio dire, e, infatti, a me, mi dispiace un casino, che la bandera, non abbia fatto un buon impegno, io, mi sicuro, dei bianca, perché, cacchio, costava, direttamente, cambiare, direttamente, una viola, con un arancione, eh, vabbè, scusatemi, sono cose mie, che a me, mi danno un po' sfogo, direttamente, di fare un po' incavolare, e, a volte, cose, 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 questo tipo, qui, dovreste un po' sfogarmi, vabbè, ragazzi, dopo questo punto qui, vediamo adesso, sulle modifiche custom, che ho fatto questo modello, comunque, parlando delle modifiche custom, che ho fatto questo modello, qui c'è un pochino qualcosa da dire, proprio, non sapevo dire, se è proprio, veramente, qualcosa di grosso, però, diciamo, che già quello che ho fatto, a me, già sta bene, allora, di base, si sembra che il modello, se senti qualcosa, che ho, montato, diciamo, nella scatola, direttamente, ma, da, io faccio qualcosa, sempre, un po' di più, direttamente, perché, in pratica, il mio schermo, montaggio, dettagli, certo, non, il vernicio, aggiungo cose, però, in genere, un modo, io lo cerco, di arricchilezzarlo, come un po', mi piace più, a, 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 meglio, in pratica, come sempre, ho fatto la pannella, insolta, per questo modello, però, ho, ho, fatto alcune cose, importanti, allora, vedete, qui, queste parti, qua, queste parti, qua, neanche, ci sono qui, e, mi sembra, anche qui, e, e, poi, mi sembra, sì, sì, e basta, parte qui, per le cose, beh, queste parti, qui, erano parti, di, dei, cast, o meglio, di, adesivi, che, semplicemente, ho, visto che non piaceva un po' di, adesivi, viettamente perché certi adesime le danno un po' fastidio troppi a vedersi ho preferito varnicare un pochettino di neve in pratica farle direttamente così e secondo me il fatto finale ci sta abbastanza bene proprio niente malaccio proprio direttamente perché poi con le pannellate diciamo l'unica cosa che mi concede un po in più però diciamo che a me va così bene a un'altra parte che sempre varnicciato di neve in pratica è qui si diciamo che io faccio poche varnicciature ma quelle proprio che servono proprio perché mi fa così perché è giusto così e ci sta veramente molto bene e secondo me il fatto che ho dato anche se so che non ha la perfezione assoluta e magari alcuni punti si notano anche alcune sbavature se non state per bene e poi dal vivo ci sta voglio dire è veramente fighissimo bene ragazzi dopo questo punto qui adesso possiamo a vedere molto rapidamente la posabilità e stabilità terrestre e quella aerea dunque parlando della posabilità e stabilità riassuntiva terrestre sul modello c'è un po da dire allora io come sapete tutti quanti e vado a farlo poi che in certa recensione sinceramente solo a cui non mi piace perché io non faccio da posare niente che fighe poi io in un modo io adoro il mio modo di fare in pratica trattura un po al modello in pratica mettendo una posa al massimo delle estremo possibile che può andargli a fare sì io so che questo qui non è diciamo il massimo proprio perché io piaceremo dopo che altro metterle in pose più asturde e in pratica proprio così agili in pratica freddo diciamo quanto fino a quanto possono arrivare le articolazioni del modello in pratica da dire pose più assurde ma più che nessun modellista e so che spesso a meno riescono per nulla so che sono benissimo questa cosa qui e moltissime fa notare nei commenti ma è sinceramente ve lo dico anche a voi lamentoni sinceramente questo è il mio modo di fare comunque sia comunque sia devo dire che per la parte della bacia ci sta veramente molto bene può fare veramente un casino di movimenti proprio e metto in bella pose di attacco proprio che senza contare che poi c'è un casino anche poi di cose come anche poi con questa codona qui di trago che in pratica ci sta molto ma dico molto molto bene quindi ok che è fantastico di brutto però l'unica cosa cosa fate un pochettino potremmo fare un pochino di meglio è forse un pochino quella delle gambe e ma le gambe proprio qui vedete c'hanno sicuramente il sistema qui e basta bloccato o più che altro con i giunti e sfrecci in pratica perfetto proprio qualcosa di molto più elaborato un pannetto fatto molto ma in modo che potremmo non proprio spaccare secondo te che poi mancava anche poi il punto in cui per farlo muovere leggermente questo modo laterale e secondo me piccolissima mancanza direttamente quindi non lo so un pochettino potevo sperare un po' di meglio ma comunque sia ci sta molto bene proprio per la posa voglio dire ok quelle terrestre magari non sono il massimo da vedere per questo modello però almeno riesce a fare buone pose proprio e questo mi dà molta contententezza invece parlando della posabilità e stabilità riassuntiva aerea qui diciamo che il modello ci sta veramente molto ma dico molto molto bene si scusate la posa del cacchio io diciamo per cercare di imitare la mia posa perfetta questo modello qui in pratica quando imita il Gundam di Amor Ray diciamo o meglio quando è Amor Ray pilotarlo quando in pratica parla con la bella posa che è il calca per il cappino a 6 puntam direttamente si scusatemi un po' per spiegare un po' male e per la poca originalità che ho io ma così mi piace fare così devo dire che secondo me è veramente molto bello ci sta molto bene così e proprio è figo veramente da vedere da vedersi proprio in questo in questo ne posso proprio lo rende molto meglio di quanto non lo sia in generale in modo per la posabilità terrestre perché come ho detto prima si ha posabilità terrestre non è il massimo proprio bivide di acqua sull'articolazione delle gambe che secondo me poteva andare a dare proprio una perfezione assoluta però devo dire che così veramente è molto buono proprio anche soltanto nella modalità normale in pratica certamente perché poi pare il mio direttamente trasformazione si e no sono carino ma sinceramente beh io dico che non sono proprio direttamente il massimo da vedersi di design si sono utili in battaglia ma non lo so per il mio buon punto di vista ha fatto qualcosa di più figo ma vabbè è Gundam ragazzi e ognuno libero di dio se parei bene grazie dopo questo punto qui senza perdere il tempo vediamo vediamo le trasformazioni che ha questo kit qui bene ragazzi adesso passiamo direttamente alle due trasformazioni che ha questo due modelli in pratica nella che non modo e diciamo nella tank mode mi sembra che in pratica sono due tipi direttamente di trasformazione che ci stanno proprio ok ok vabbè non vado a spiegare più nelle mie ultime paie perché l'ho già detto anche fin troppo anche prima quindi scusatemi comunque sia adesso devo trasformare con velocità aumentata perché sennò mi sa che se no se faccio da qui dal vivo ci mettiamo davvero un'eternità e cerco di andare più veloce che posso direttamente quindi di faccio possibile ovviamente con il manuale di istruzioni perché sennò sarebbe un po un casino perché a volte ricordarci a trasformazioni è un pochino complicato perché io voglio dire io ho una buona memoria ma non è una memoria da super computer ma vabbè ragazzi ci ho perduto il tempo passiamo alla trasformazione con velocità aumentata ed eccolo qua praticamente trasformato nella sua premissima modalità nella modalità canon non direttamente come potete notare ecco velo qua sì ma avete visto che c'è un casino di tempo e l'ho fatto anche un po malaccio forse ma cercate di capirmi ragazzi qui non è per nulla facile farvelo vedere proprio in videocamera tutto quanto perché sì è facile in generale ma pensavo fosse anche un po un po più semplice comunque se mettete quello qua ci sta veramente molto bene questa modalità cannone in pratica rivoltato dall'altra parte però diciamo che come ho detto prima ci sta molto bene perché avete già queste braccia qui direttamente che possono muoversi così in questo momento qui sotto le armi si chiamasse anche in contrario queste braccia meccaniche che a tentacoli potremmo dire comunque sia molto molto figo con poi questi punti qui dei fanlex possono andare a staccare in qualunque momento in questo modo qui ci sta molto bene in pratica questa formazione qua della cannon mode sarebbe in pratica per combattere sarebbe in pratica per combattere i nemici ad altro raggio in pratica come potete vedere vedere tutto qui ci sta ci sta molto bene proprio perché spara bene i suoi colpi e combattere tutti i generi di nemici a lungo raggio scusatemi la ripetizione ma sinceramente non è super nulla facile e tra l'altro vi ricordo già una cosa non è per nulla accessorio smontare le braccia io qui l'ho dovuta smontarle e rimontarle proprio perché perché non ho capito meno un po di cose perché farlo in videocamera è un'impresa incredibile e voi forse non capite ma volete avere un bel builder ma quando rimontate non è come nulla così facile invece poi passiamo alla seconda trasformazione se non sapete c'è un ulteriore tempo in pratica che in pratica è identica a questa prima qui e potremmo dire che è quasi in tutto vedete qui si vanno semplicemente a restare semplicemente queste parti qua così in questo metodo mi sembra forse queste qui delle braccia si qui sopra ecco qui scusatemi vi ho detto prima non è così facile tutto ciò comunque sia ecco ecco velo qui vedete è quello qua trasformato in pratica in modalità come possiamo dire tank mode eccolo qui da modalità caramato si che sembra un pochettino un caramato ma ci sta ok è semplicemente lui in pratica in seduto in pratica in questo metodo qui ci stavano io dire niente male è molto carino no beh ragazzi è stato un po lungo farlo vedere ma ma non come già ho spiegato prima non è così facile il metodo quanto in sua vita però devo dire che è veramente molto bello le trasformazioni ci stanno certo i design non brillano ma per me per i miei standard almeno ci stanno abbastanza bene quindi ok ok devo dire che ci può stare come un modellum modelista credo più che altro queste cose più macchinose si può più divertire ma vabbè ragazzi dopo questo punto qui in pratica della trasformazione passiamo adesso poi a misurare la realtezza facciamo le comparazioni varie e diamo il voto finale a questo kit qui dando i volenti sui dati positivi negativi il reversible gundam o reversible gundam è alto praticamente vediamo ben sui quasi di base potrebbe essere 4 cm se consideriamo la testa ai piedi però consideriamo anche le beam saber l'altezza varia un po' di più dunque mi sembra di capire che in pratica l'altezza è in pratica scusate se non siete per nulla praticamente il metro sui praticamente quasi 16 cm in totale proprio l'altezza massima di questo kit ne voglio dire niente male proprio come modello ci sta veramente molto molto bene e questo primo paragone direttamente con lo sacco di shard di kundam di origini in pratica allora vi state chiedendo sicuramente perché avevi solo lo sacco beh in pratica c'entra 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 perché ne ho ascolto un sacco ma si chiama ballistic sacco che io ancora devo andare a praticamente a formare devo comprare il kit direttamente per realizzarlo e vi ho risolto subitissimo che purtroppo lo voglio pronunciare già qui non userò questo sacco ma per creare il ballistic sacco sarà una cosa naturalmente nuova con un altro kit proprio perché sinceramente non voglio proprio direttamente farlo perché già ci sta bene così comunque se volevo avvisare direttamente questo e poi diciamo che sono sfidante ci sta molto bene proprio non so se magari fare una ripittura però vediamo perché poi perché poi devo ancora ordinare il tuo quanto quindi vedo proprio per bene ma io potrei anche lasciarlo in pratica così come perché ci sta molto bene e questo è il paragone con il gundam wing zero di Hono in pratica tratto dal manga di gundam ill fighters che abbiamo già entrato in passato e che sto un pochettino sistemando su alcune cosette però devo dire che insieme a lui ci stanno molto bene e si adesso vi dico una cosa so che non ci sono molti pagoni più un po' più meccaninosi come potuto fare con il transient gundam o gli altri ma credetemi ci viene un casino di tempo però devo io tirarli fuori perché alcuni che sono messi proprio in una certa posizione e faccio cadere tutto la mia madre quindi scusatemi se fossi solamente un po' alcuni un po' soliti però comunque se ci stanno molto bene un po' perché vi ho messo perché un po' la meccanicosità delle due trasformazioni è in pratica molto uguale e si nota un casino o meglio non è notato un casino assemblando in pratica questo kit il prossimo paragone è sempre con il nuovissimo Jim tratto da Jim Contra Attack sempre di Contra Bill Fighters che anche lui rivela la sua accensione tra pochissimo quindi se c'è una cosa inizialmente pensavo di farla anche con lui direttamente comprare altre due unità e elizzarlo ma è un'impresa più difficile quindi avrà semplicemente la sua accensione in singolo magari se proprio riuscirò a farlo vi faccio la mia pagina facebook perché non posso lasciarvi tolta in presa la recensione allora è sempre per il Rebels il Gundam ecco direttamente il paragone con il kit millione assoluto di questa serie qui che in pratica si chiama si chiama lo Star Build Gundam che ci sta molto bene in paragone anche con lui devo dire proprio io e poi in realtà non molto aveva anche la sua accensione noi non ti metti che di lui c'è molto in programma e credetevi c'è tantissimo da dire perché è un kit mille fantastico ed in gran finale ecco qua direttamente il paragone in pratica con il Gundam Erickson sotto 2HG diciamo una delle ultime versioni che ci sta molto bene poi in pratica che è molto basato anche sul primo Gundam quindi piaccia per me metterlo in pratica a comparazione quindi ci sta veramente fighissimi proprio direttamente insieme proprio specialmente poi perché sono pilotati in entrambi da Amor Ray che in pratica poi dico una cosa sempre il sogno che doppia il PN è sempre quello di lì che se ne andate a guardare è sempre lo stesso doppiatore di Amor Ray in pratica quindi vabbè c'è una lunga storia ma non ve la vado a spiegare però ok ok però ci siamo molto bene comunque sia vabbè dopo questo punto qui passiamo direttamente a parlare di altre positive negative e di un bel voto finale a questo kit quindi ragazzi che dire dire direttamente del nostro Reversible Gamma? sicuramente è tantissimo ah e vi ho visto un'altra cosa mentre per chi me lo sta chiedendo perché non faccio la posa figa diciamo con il Gundam che in pratica mi metto sì e no io l'ho fatto già in una parte della posa verità sta vita e sinceramente non mi va direttamente di farlo quindi capite già la mia scelta per esempio rispondere rapidamente comunque se credi rapidamente di questo kit qui allora allora io l'ho trovato un casino fino a quando è comparso certo la prima volta non lo consideravo tantissimo però poi me ne sono affezionato un casino perché poi vi rendono proprio bene è veramente una bomba questo kit qui il design è veramente una figata ma sapete che se io gestisti introdescono molto voto per il voto per il design sarebbe un 25 e mezzo superato perché ha un design inter fantastico però devo dire che comunque sia parlando più seriamente come un modellista proprio su cosa ne dico io ci stava veramente ma molto bene come kit realizzato allora per cominciare perché vanta anche di buone basi di un altro kit di una serie di Gundam Double Zero che in pratica non mi ricordo bene il nome fatemi ricordare un secondino che doveva essere ah già se non ero l'hg 0,50 euro bonus Gundam mi sembra che a me sinceramente non piaceva tanto trovo specialmente proprio il doppio colore qui devo dire che comunque sia come l'hanno rimodernato è veramente una bomba insomma il design guardate chiaro che roba di proprio poi anche alcuni punti delle articolazioni sono infatti molto molto bene proprio sì in pratica hanno tolto da parte un po' dietro rossa che davano un po' fortidio a me praticamente e poi come hanno proprio messo anche bene questo numero a me parati con i cannoni questi vari quindi qui è una figata incredibile proprio l'arma elementare l'intervento è veramente molto buonissimo nella costruzione si comporta molto bene non ha praticamente nessun problema a livello di costruzione tutto tutto va alla perfezione proprio su come lo vorrei direttamente per un buon kit hg ci sono anche tantissime armi proprio che mi piace un casino l'unica cosa che mi piaciuta per nulla diciamo questa beam saber qui bianca ma è facilmente sostituibile con un'altra beam saber smicente ricolorandola con dell'intelabile quindi ok che è un proletto operabilissimo forse io tempo non molto se riuscirò a comprare un arancione vediamo di colore proprio per sistemare questa cosa che sicuramente mi dà un pochettino fastidio e poi vai a fare trasformazioni vuol dire che non fanno impazzia ma devo dire che ci stanno molto bene per questo kit quindi ok ok quindi con me è un kit proprio molto buono era in tantissime cose come le braccia meccaniche che lo andano veramente molto buono unica pecca fosse alcune articolazioni delle gambe che potrebbero essere un pochettino migliorabili ma nulla di più certo si poteva anche un po di meglio per le trasformazioni poter essere molto più figo ma è venuto così e per me sta anche bene io sono accettato anche bene queste cose se un kit ha fatto bene per me è ben venga però l'articolazione potrebbe anche un pochettino essere sistemabile quindi ragazzi passiamo al voto finale rapidamente per perderci in ulteriore tempo che è praticamente quello di un 9 pieno un 9 ripieno perché ha un kit ovviamente fatto molto bene come ho già spiegato prima ha i miei accessori design sono veramente bellissimi proprio il bravo scanda non c'è che ci sta molto bene proprio e la cozzone bianca soltanto è perfetto per me per me standard quindi ci sta veramente di brutto molto bene io ho in pratica anche un kit perché si possono andare anche diciamo la stava con le parti e poi poi andare anche colorare quindi dando anche un diciamo anche un po stimolo anche un po la customizzazione diciamo in buona parte quindi chi è consigliatissimo così agire 25 al massimo 30 euro ma ma io vi dico che valivare tutti quanti è un bellissimo kit che secondo me vale l'interno la pena specialmente proprio come atticolato fatto così bene com'è ne vale di brutto la pena proprio comprarlo sarebbe un delitto proprio non comprarlo quindi ragazzi comunque sia questo quello che vado da dire su brava cyber gundam ma direttamente e questo è proprio il mio pari personale grazie mille per guardare la recensione che adesso si conclude qui e via no e come sempre mi sono stati in vita ma io credo che questo video vi piacere il cittore di giocatore mi piace e un bel commento e vi fanno qui il clore condivisione in cui voi altri modo da fare il crescita a visita al mio canale per favore e seguitatemi poi vi consiglio visita la pagina facebook trovate il link in descrizione e mi raccomando di lasciarci lì un bel mi piace un bel commento e di seguirla perché trovate le foto di tutti i miei modelli che tante altre novità e poi se non siete ancora iscritti chiedete al mio canale per imparare la pubblicazione delle mie gompla reviews e di altri miei video che sono le super robots reviews le 3 box reviews non solo giocattoli ma molte altre cose e le super hubros reviews e tanta altra roba bella come blog e molte cose interessanti quindi ragazzi iscrivetevi perché perché ci sono recensioni di ogni genere bene grazie a questo prodotto noi ci vediamo al prossimo video grazie mille l'ho guardato fin qui e non c'era la vostra data ranger